Gentili telespettatori, buona giornata. Non so chi di voi ha avuto la sfortuna di sentire in trasmissione da Parenzo e con Cittade Gregorio Mario Monti in versione dittatore che dice che il governo dovrebbe controllare l'informazione italiana, cioè i media, quindi una sorta di censura e controllo come c'era durante la dittatura italiana dei primi del Novecento dove la stampa era sotto il controllo attento del regime totalitario. Per Mario Monti in versione dittatoriale lo Stato dovrebbe controllare l'informazione e dovrebbe essere meno democratico. Eh sì, come vi dicevo nel video precedente, quelli che si definiscono democratici hanno qualcosa di, come si può dire, io direi di fidarsi poco, è meglio fidarsi poco di quelli che si vantano di essere democratici. È un po' come quei paesi in giro per il mondo che scrivono noi siamo la Repubblica Democratica del Cipalippa e poi sono delle dittature. Insomma, chi si freggia e si autoloda, noi siamo democratici, noi siamo quelli che... Io comincerei ad avere poca fiducia in chi si autoincensa, in chi si loda. Se tu sei un democratico non hai bisogno di ripetertelo e ripeterlo agli altri, perché se tu lo continui a dire significa che tu stesso per primo non sei convinto di essere poi così democratico. E così abbiamo questo ex presidente del Consiglio in versione dittatoriale alla faccia della democrazia, alla faccia di quelli che si freggiano del titolo noi siamo democratici. Ma cosa vorrà dire per loro questo essere democratici? Interviene l'unica opposizione italiana che è quella di Giorgia Meloni. Dall'altra parte non ho sentito nessuno dire mezza parola. Il silenzio, non il silenzio degli del governo, il silenzio, anche del centrodestra al governo, ormai assuefatto ai democratici. E così parole antidemocratiche dette da uno che si sente un grande democratico. L'ex premier ha infatti affermato di colpo abbiamo visto che il mondo in cui è organizzato il mondo è disunito. Abbiamo iniziato a usare il termine guerra ma non abbiamo usato una politica di comunicazione adatta alla guerra. Lui dice, visto che tanti dicono che siamo in guerra, in guerra si è poco democratici. L'informazione e tutto viene controllato dagli organi centrali dello Stato. E lui dice, bisogna trovare un sistema che concili la libertà di espressione ma che dosi dall'alto l'informazione. Cioè, dice, va bene la libertà di espressione, ma tutta questa libertà di espressione, insomma, lo Stato deve controllare come nei regimi comunisti che ci sono attualmente, dove lo Stato vieta i social network, dove lo Stato vieta l'informazione, dove lo Stato controlla e irregimenta l'informazione, i media. Monti ha aggiunto poi che parlando continuamente di Covid si fanno solo disastri. Comunicazione di guerra significa che ci deve essere un dosaggio dell'informazione. bisogna trovare delle modalità meno democratiche. Eh sì, ha parlato proprio di controllo dall'alto, di propaganda di regime. Interviene Giorgia Meloni su Twitter, rilancia l'estratto del video di Mario Monti in versione dittatura con controllo dall'alto. Giorgia Meloni dice «Avvertite Monti che siamo uno Stato democratico e non un regime. Limitare l'informazione e pluralismo acuirebbe tensioni sociali, privando ulteriormente gli italiani della loro libertà. Cosa sarebbe successo se una simile dichiarazione fosse stata fatta da un esponente di destra?» dice Giorgia Meloni. «Provate soltanto a immaginarlo». In effetti ha ragione. Quando le derive dittatoriali, le derive da regime comunista, vengono declarate in pompa magna da un ex presidente del Consiglio, in una trasmissione di sinistra, tutti zitti. Voi credete realmente che nella trasmissione di sinistra abbiano rimproverato Mario Monti per le parole che ha detto? Mario Monti parlava con dei giornalisti in un programma gestito da giornalisti. Gli va a dire che andrebbe limitata l'informazione controllata dall'alto, dallo Stato, in maniera meno democratica. E concita De Gregorio e Parenzo, secondo voi, hanno risposto dicendo quello che lei dice è inaccettabile. Io avrei risposto a Mario Monti, a Mario Monti gli avrei detto «Guardi che quello che sta dicendo è inaccettabile, ma lei lo sa che siamo in un paese democratico?» Lei parla di limitare la libertà di espressione in nome di che cosa? Di un giusto di parte? Di quello che lei crede sia corretto e giusto? Io avrei risposto così. Invece i due giornalisti, zitti e muti, perché è un ex premier, ovviamente di sinistra, ha ragione Giorgia Meloni, ma se l'avesse detto un esponente di centrodestra, immaginatevi se l'avesse detto Berlusconi, l'avesse detto Salvini, Meloni, Crosetto, non so, La Russa, se l'avesse detto Toti, Lupi, o un altro esponente di spicco di Giorgetti, Brunetta, dovremmo essere meno democratici, ma la sinistra avrebbe chiesto aiuto ai caschi blu dell'ONU, avrebbe chiesto un intervento rapido del Consiglio di sicurezza dell'ONU, perché avrebbero fatto le dirette televisive, indiretta per la situazione che si è creata, ecco, avrebbero fatto delle manifestazioni sindacali, no al ventennio, no al ritorno, avrebbero fatto degli scioperi generali, ecco, questa è l'Italia, questa è l'Italia. La sinistra può parlare di limitare la democrazia e tutti zitti, tutti zitti. Anche i giornali di destra, questo articolo l'ho trovato solo sul Libero Quotidiano, sugli altri, tutti zitti. Quindi abbiamo una sinistra che spatroneccia, come diceva Batantuono, ma abbiamo una destra che si fa mettere anche i piedi in testa, abbiamo anche degli organi di comunicazione del centro-destra, tanti giornali, spesso non vedono la gravità delle esternazioni della sinistra e dei loro esponenti, non dicono niente, potrebbero fare controinformazione su questi aspetti, niente. Qualche articolo così, un po' come se fosse gossip, la Meloni risponde a Monti. Arrivederci a tutti.